buongiorno a tutti e a tutte a tutti quanti a tutte quante oggi è il 5 dicembre sono le sette zero otto e questa è good morning milano buongiorno a tutti buongiorno a tutti ascoltatori di cristal radio buongiorno entusiasme tue buongiorno ciao bisogna partire bene la mattina non bisogna partire così chi vuole sentire allora stai a casa tua a spegni la radio invece no invece no perché voi fedelissimi della mattina siete sempre qui tutte le mattine alle sette per ascoltare good morning milano sempre qui su cristal radio in diretta anche sui canali social di milano all news esatto noi siamo qua tutte le mattine dal lunedì al venerdì i contenuti che facciamo durante le due ore di radio li trovate appunto sui nostri profili social condivideteli guardateli girateli fatene buon uso fatene buon uso ma sicuramente oggi il 5 dicembre giornata mondiale del volontariato sì e so che a milano all news dalle 10 poi faremo una maratona insieme al csv di milano e a tanti collaboratori con noi che andremo in giro a raccontare un po appunto questa giornata proprio questa sera alle 17 ci sarà un evento in statale dove si presenterà la civil week 2024 però che sarà a maggio che sarà a maggio se infatti andiamo tutto con grande calma piano piano punta di piedi come piace a noi e quindi iniziamo con la musica iniziamo con elodie affari spenti elodie affari spenti 7 12 minuti martedì 5 dicembre adesso iniziamo con il vero succo della nostra trasmissione con la polpa anzi no prima della polpa sai di venire c'è sempre un momento c'è da capito perché oggi è fondamentale scusa vuoi capire dai perché perché comunque è importantissimo ah ok no pensavo fosse perché proprio oggi è tra le 10 persone oggettivamente più famose al mondo che più hanno controllato non ho contribuito no ho controllato non ho contribuito Walt Disney quanti anni fa? 122 anni fa a me dai porta bene dai porta bene poi l'undicesimo personaggio invece è Maurizio Crozza beh cavolo cavolo che fa 64 anni 64 anni ma più o meno più o meno la metà di Walt Disney più o meno hanno più o meno i capelli li ha già persi ecco Walt Disney non ha mai persi i capelli aveva i capelli non lo so non lo so nemmeno quanto è e per me è la faccia di Tom Hanks per il film no ce l'ho presente con i baffetti i capelli no non è quello lì con i baffetti e i capelli un altro no perché sai che c'è anche la cosa che vuol Disney forse la CIA no cos'è che era no no che abbiamo messo delle cose che potessero riferimento a una roba un po' così degli anni 30 però sono quei messaggi subliminali che poi alla fine c'è più romanzo che realtà sì un po' l'Armand Kahneman come si chiama scusami Armand Kahneman eh sì un po' la Redron no saluto al collega Redroni si scherza si scherza e poi scompare saluto anche Jimi Hendrix a questo punto che è stato intervistato settimane fa da Redroni mi dicevi no esatto esatto settimane fa settimane fa come andatelo a cercare sull'internet e poi scompare dieci anni fa Nelson Mandela dieci anni già dieci anni anche io io me lo ricordo quando ha fatto il giro sul caddy del campo in occasione dei mondiali di calcio in Sudafrica che mi pare fossero nel 2010 10? no perché abbiamo vinto il 2006 quello dopo il 2010 va bene ogni quattro anni mondiali quello di Waka Waka sì sì me lo ricordo mi ricordo il giorno quindi dieci anni fa dieci anni fa oggi dieci anni fa oggi ok ero in Uganda sì sì perché io in Uganda è il giorno che è morto Mandela ah quindi c'è quella roba che ti ricordi sì 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 mi ricordo dove ero quando sì sì quindi io ti dico io mi ricordo anche lì che comunque non eravamo in Sudafrica appunto in Uganda ma molto 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 sentito e beh immagino più che qua alla fine ecco e con i grandi personaggi alla fine ti ricordi io ricordo dove ero nel momento in cui mi è arrivata la comunicazione sono entrato subito sull'ansa chiaramente della morte di Silvio Berlusconi ho capito due tre mesi fa cosa è stato mi ricordo qua perché stavo andando a vedere Vasco ero in macchina che stavo andando a vedere Vasco a Bologna e Vasco quella sera lì tra l'altro fece gli auguri? no no disse delle cose condoglianze? no no ma era una cosa che diceva anche prima che succedesse ah ok ok su favole favole diceva un po' di nomi di politici ok durante ti immagini e nulla ok barbì allora sentiamo invece com'è la situazione del traffico a Milano lo sapete tutte le mattine ci colleghiamo con Luce Verde Luca Carboni mare mare che pezzo non me lo ricordavo così bello devo dire io che dico sempre ma povero Carboni poi la povero dico sempre no no invece ci sono questo è anche ma ci sono delle canzoni tipo c'è Settembre che è stupenda che racconta di lui da piccolo molto molto bello me lo dovevo andare a riscoprire eh sì ma ci sono un sacco di cantanti che tu per partito preso anche a me è successo un sacco di volte dicono no queste qua non le ascoli i Negramaro tra l'altro prossimi te lo bevi a Sanremo oltre i Negramaro dei sempre sottovalutati tu un po' schifati diciamo la verità dei sempre un po' schifati quando ero più piccolo poi c'è stato tutti ti scherzavano e per le dimensioni come dicono è meglio va bene comunque no ma è chiarissimo c'è davvero ci sono quelli che magari si arrivano perché hai sentito uno che ha detto ma non mi piace ti sei fatto convincere oppure lanciano una mina di questo linguaggio da giovane come è stato tutto può accadere mi pare c'è una mina che era la canzone di cosa vuol dire la c'è una mina è che i Negramaro hanno fatto un album della Madonna sostanzialmente nel 2013 ah e dopo è difficile stare al passo eh no c'è la mina dei flag c'è la mina che ti fa riscoprire poi tutto il passato e rimetterlo in discussione idem è successo con Ligabue quando ha lanciato Mondovisione che è un disco incredibile se io te le dico tu le conosci perché erano tutte singoli ah ok poveretti tutti da soli tutti da soli tutti da soli che bello che bello questo blocco va bene cosa ci dicono i giornali noi facciamo i pirla ma poi i giornali sono peggio eh no nel senso non è che poi raccontino chissà cosa speriamo di cose serie soprattutto questa volta perché ma mi hanno detto il numero di whatsapp a cui scrive c'è 331-7853-555 che è più totale in questo studio ehm ieri pomeriggio è stato approvato l'ordine del giorno di giungi del PD sentiamo se arrivi dove penso io vai che per ciò che è stato sollevato recentemente per le condizioni interne vergognose del CPR di Via Corelli chiede sostanzialmente la chiusura immediata oh era ora cari consiglieri finalmente grazie nel senso sono proprio contento speriamo che la giunta accetti e percepisca e capisca la importanza di quest'ordine del giorno lo sappiamo benissimo il CPR di Via Corelli cioè il centro permanenza rimpatto cioè quella sorta di lager che c'è in Via Corelli e non lo dico io lo dicono le immagini ma no no soprattutto dicono i senatori della Repubblica Italiana che sono andati a vedere questo posto ok tanti tanti in questi anni sono andati a vedere carta morta è finita il garante il garante dei diritti dell'uomo il garante delle carceri è andato a vedere ha detto non può esistere un luogo del genere in Italia e parlava proprio di Via Corelli sta di fatto che tutto è lettera morta finora per fortuna si sono svegliati per fortuna 20 e passa consiglieri 28 voti a favore tutti della maggioranza e 9 contrari va bene 9 contrari poi ci parleremo per capire cosa c'è di contrario a chiudere un posto che ti ripeto non vuol dire lasciare tutti liberi ma vuol dire capire perché una persona che fa un fermo amministrativo debba finire in un carcere perché è una detenzione amministrativa non c'è nessun reato penale nelle persone che finiscono al cipiere di Via Corelli comunque per fortuna che finalmente il consiglio comunale ha emesso quest'ordine del giorno speriamo che finalmente la giunta e il sindaco Sala facciano qualcosa tra l'altro in giornata il sindaco Sala aveva chiarito che sostanzialmente era ritornato sulla vicenda di Via Corelli in particolare dicendo che ne aveva parlato con il nuovo prefetto ricordiamo che c'è il nuovo prefetto in pensione Saccone c'è Claudio Sgaraglia a quale aveva chiesto del tempo per studiare appunto la situazione però lui non è che si è espresso per la chiusura ha sottolineato al prefetto la questione se ne dovrà occupare subito dice e niente il prefetto che è arrivato ora mi dice che ha bisogno di qualche giorno perché ha chiesto un po' di tempo Sgaraglia non gli posso dire di chiudere oggi essere un'istituzione vuol dire anche cercare di collaborare e allora andiamo con un po' di musica intanto con questa piccola che ti piace a te Luciano con Sfere Basta in Orange Imagine Dragons Good Morning Milano qui su Crystal Radio quando è il momento di leggere i giornali vero? eh sì perché ieri e da quello che si capisce però ciò è stato scritto ieri anche oggi è nato uno sciopero bianco quindi sostanzialmente una protesta pur non astenendosi dal lavoro degli insegnanti della scuola di Via Linneo Via Linneo che si trova aspetta no prima ti dico perché perché ci sono dei roditori nella zona come dei roditori sì avvistamento di roditori e tracce della loro presenza tra l'altro denunciate in un video di TikTok dove si vedono escrementi libri rosicliati eccetera e Via Linneo dov'è? Tu uno dice delle estreme dopo il piazzale abbiate grasso è tra Corso Sempione e City Life ah vabbè non male quindi appunto tracce di roditori tutto ciò si denuncia in un video TikTok ho detto in fondo là perché ho pensato all'naviglio ho pensato all'acqua ai campi agricoli per quello grandi proteste chiaramente da parte dei genitori in primis 400 studenti e anche i professori appunto sciopero bianco di ieri e oggi mentre dal comune si fa sapere che è già in corso la deratizzazione come si chiama la scuola? scuola media Mameli ah beh potrebbero chiamarla Mickey Mouse hai visto la presenza dei roditori adesso potrebbero chiamargli il nome poi oggi il complanno di Walt Disney potevano fare un'interdottazione a Mickey Mouse a questo punto riportiamo questo perché di solito quando non è una notizia nuova per carità però di solito sono sempre zone un po' dell'interlanda con i campi eccetera democrazia Milano le scuole fanno schifo in periferia come in centro benissimo qua la gentrificazione non è no 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 scherzo l'abbiamo già detto in apertura nuovo prefetto Claudio Sgaraglia che appunto sostituisce Renato Saccone che ieri ha iniziato non ha iniziato si è presentato per la prima volta appunto incontrando la stampa ieri mattina Sgaraglia Sgaraglia assolutamente Sgaraglia o Sgaraglia 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 ok Claudio Sgaraglia neoprefetto di Milano classica la frase di rito chiaramente tutti si aspettavano Milano è Gotan City non è Gotan City eccetera Sgaraglia dice è Paperopoli è una città fondamentalmente sicura c'è un fenomeno di micro criminalità che va sicuramente gestito e migliorato cercheremo in qualche modo di affrontarlo tutto e tutti assieme buon lavoro perfetto sostanzialmente buon lavoro ma intanto cosa è successo ieri appunto nel corso della conferenza stampa dell'incontro con la stampa aveva detto aveva fatto il punto sullo sciopero dei vigili che era stato proclamato per il 7 dicembre che poi lì non si capiva bene abbiamo sempre messo le mani avanti si fa non si fa perché sembrava strano e infatti ieri mattina ha detto c'è una procedura di tentativo di conciliazione in corso quindi aspettiamo una risposta da parte dei sindacati poche ore dopo qua ero sul giorno Milano notizia su Milano Today il nuovo prefetto di Milano blocca lo sciopero della polizia locale il 7 dicembre Gisa non sciopereranno la decisione è stata presa per evitare disordini in una giornata caratterizzata come appunto abbiamo già sottolineato più volte da molte iniziative sostanzialmente Sgaraglia ha disposto il differimento ad altra data quindi non si farà il 7 dicembre lo sciopero proclamato da Sulp che domani saranno i nostri microfoni PFP CGL eccetera 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 ma dovranno trovare un'altra data perché il 7 non va bene ma domani chiediamo che altra data hanno trovato se l'hanno trovata e soprattutto come hanno reagito a questa precettazione un po' forse era nell'aria forse lo sapevano anche loro come dire l'hanno fatto un po' apposta a metterlo in un giorno così importante Giovanni Truppi tuo padre mia madre Lucia canzone che ha presentato a Sanremo dell'anno scorso adesso non mi ricordo se è dell'anno scorso o di quello ancora prima però mi ricordo che era in canotta perché è il suo tratto distintivo suonare in canotta e l'ha fatto anche sul palco del Rariston chissà come è contento sapere che tu lo ricordi solo e scusamente perché era in canotta come fosse Armonnezza non capite povero Giovanni Truppi da non fan è chiaro che ti ricordi quello se fossi fan se fossi figo sempre sempre torniamo sempre daereo sono sempre loro i nostri padri fondatori allora allontaniamoci un po' appunto dalla serietà del CPR dei carabinieri dello sciopero della polizia locale eccetera parola è a caso parola è a caso vabbè dello sciopero della polizia locale ho sbagliato chiaramente il 5 dicembre sottolineiamo che ieri il sindaco Sala e non mi chiedere perché l'attrice Margherita Bui in galleria hanno acceso con il pulsantone l'albero di Natale di Gucci in galleria Vittorio Emanuele II sai che sono contrario a queste cose ma che io sono contrario infatti non ti dirò cosa penso esteticamente ma non mi fai niente proprio di quello tu l'hai visto esteticamente sì sono dei pacchetti sono dei bauli non so mi hai capito ma non mi fai niente di quello io trovo assurdo che un sindaco accenda l'albero di un privato questo non lo so so che sarà un verginello inutile che si indigna per cose stupide però no no non mi piace punto ho detto basta poi mega pista da pattinaggio in situazione centrale anche lì ci stavamo chiedendo ma ci sarà quella che l'anno scorso stata finanziata dalla regione Calabria eccetera sì quest'anno è la Basilicata no dal 7 dicembre al 7 gennaio stessa modalità delle precedenti ingresso gratuito noleggio dai pattini e la più grande sostanzialmente sul territorio italiano se non sbaglio no a Milano scusate la più grande pista di pattinaggio all'aperto all'aperto quindi ma è allestita a Milano da 1300 a 1500 metri quadrati con la pertinzione non ho capito niente non ho capito cosa stai dicendo aperta chiusa prima al mondo prima in Italia non si è capito niente cosa stai dicendo spiega allora spiega bene cresce da 1300 a 1500 metri quadrati ok che non sappiamo quant'è in più non è una pista già ho detto è quella nazionale no non è quella nazionale è quella di Milano e in più non è quella di Milano e basta è quella tra quelle aperte all'aperto a Milano cosa è tra quelle è la più grande all'aperto sì ah ok mancava l'aggettivo ma se l'ho detto prima è una subordinata ho capito ma subordini un po' troppo qua non avevo capito niente quindi tra quelle l'aperto e la più grande apri in una stazione centrale la più grande pista di patinaggio l'aperto di Milano sì adesso che te l'ho detto mille volte leggilo e ripetilo ecco non era difficile non lo posso dire non lo posso dire non lo posso dire non si può dire con sta bellissima notizia che sostanzialmente questo in un tipo una ventina di righe di fuffa di fuffa in cui si legge fuffa click questo e basta e basta tu devi trovarlo sai che google ti chiede un minimo se no non ti guardano è il fuffa click vabbè sostanzialmente è questo ma non saranno le uniche piste da patinaggio non saranno le uniche iniziative sapete benissimo oggi si inaugura una in Viale Aretusa sì un bellissimo progetto per portare appunto anche nelle periferie milanesi quindi a pochi passi dal pezzale di Nunte quasi latero di San Siro apertura alle ore undici della pista di patinaggio gestita dal CSI nel centro sportivo italiano buongiorno da Crystal Radio questo era un'Inegramano con meraviglioso eccoci ritornati a fare un po' di rassegna stampa sono intanto così piano piano in punta di piedi come piace a noi non finiva urlando strano no va giù va giù piano è vero prossimi concorrenti che sicuramente vabbè parliamoci chiaro dai cosa? vincono? vabbè no vincono pensavo sapessi già chi vinceva questo festival è un festival truccato no no non vincono però sicuramente saranno avranno un'attenzione speciale ecco un po' come le varie Elisa le varie Giorgia quando si presentano dopo non so nemmeno vabbè si sono andati a quello giovani sicuramente comunque Giorgia l'ha vinto quello giovani sì comunque questo è sicuramente una cosa che sapete tutti però noi ve la diciamo perché siamo Milano News e siamo Cristian Radio e abbiamo il diritto di dirlo è stata svaliggiata a Milano la casa del presidente di Mitsubishi in Via della Spiga 250.000 euro sono il bottino del furto della banda pensavo peggio ma la cosa che io mi sono chiesto è il CEO di Mitsubishi ah di Mitsubishi Italia Italia beh sì ok no perché ho visto la foto ed era ed era un ragazzo asiatico ok è giovane sì mi sembra di sì poi non so se ha messo una foto sai che 15 anni fa non lo so non lo so comunque sostanzialmente ieri si è verificato questo furto in pieno centro a Milano quindi il CEO di Mitsubishi Italia abitava non so se avete ancora in Via della Spiga esatto esatto poi grande entusiasmo per la vasca di laminazione immagino grande festa eh sì ah ok da parte delle politiche eccetera sì a parte chiaramente chi ci abita per il comitato Bresson o Vasca che avremo lunedì prossimo in collegamento per un aggiornamento perché c'è stato un presidio durante il fine settimana sotto la pioggia battente tra l'altro di sabato e risposte non risposte e siccome è molto complicato ce lo faremo dire da Mattilde Minella che sarà il nostro microfono il lunedì il fatto sta che veramente c'è un entusiasmo immotivato io adesso ti leggo perché immotivato in che senso vabbè perché questo messaggio finisce con non è il Mose ma un pochino ci somiglia questo mi sembra il Mose adesso finalmente funziona Marco Mazzei consigliere del sindaco consigliere comunale comunale di Milano lista Beppe Sala che nel suo canale Whatsapp al quale sono iscritto ok è già questa la notizia vabbè scusami mi scrivo in fuori dici la verità che sei iscritto perché vuoi vincere i biglietti per le partite che consigliere mette no io sono iscritto perché vorrei che un giorno rispondesse ok ma non puoi il canale non puoi rispondere no però ho scritto in altre maniere ok è un giorno storico per Milano in grassetto è in grassetto e vedi quando parlo di entusiasmo che entusiasmo che entusiasmo c'è un entusiasmo immotivato immotivato perché da oggi è aperta la vasca di laminazione del Seviso che permetterà di contenere fino ad annullare quando saranno aperte le altre vasche regionali le esondazioni del fiume che hanno tormentato per decenni i quartieri a nord ovest della città per i dettagli e la storia del progetto eccetera chiusura non è il mose ma un pochino ci assomiglia e commento faccio il commento da giovane prego anche meno va bene tutto siamo contenti però forse insomma è veramente un entusiasmo un po' immotivato forse anche un po' meno un po' meno enfasi in questa esibizione di ah finalmente non ci avete messo una vita a farla non è cambiato nulla nel giorno che avete aperto c'è stata l'alluvione la seconda alluvione di seguito nel giro di meno di un mese nel momento in cui funzionerà potremmo possiamo festeggiare certo è che comunque come sappiamo bene come più volte ha detto il sindaco di Milano non si può è difficile far contenti tutti se fai contenti una parte si fai contenti già iniziare a far contenti quelli che abitano lì non sarebbe male esatto comunque più o meno appunto contenere la situazione abbiamo visto le foto le foto di certo non sono non è un panorama che vorremmo vedere sotto casa nostra nonostante cosa da colorata di verde ho visto dentro non ho dipinta di verde così per mitigarla ancora di più infatti il comitato l'ha presa bene anche quella va bene ma poi quando è che è lunedì? lunedì lunedì sentiamo il comitato e vediamo un po' cosa ci racconteranno sentiamo con un po' di musica invece oh questo ti piace anche a te i Muse sono con Wheel of the People Radio Rama con Aliens dal 1986 questo è il Crystal History di oggi ringraziamo sempre l'ufficio programmazione per queste chicche che ci tira fuori dal cilindro dei ricordi vostri e nostri musicali nel 1986 io non l'ho visto Funeral di Redidiana figurati è un 97 no per dire che figurati andrà ancora più indietro però questa non me la ricordavo neanch'io devo dire eh no vabbè ci sono nell'86 ascoltavo forse il Spanda o Ballet o il Europe ebbè no il Europe è più avanti mi sembra che il 92 tipo Final Count sì mi pare che sia qua Giangelo in 90 però potrei sbagliare comunque questo controllo mentre tu cerchi altre notizie ringraziamo Alberto che ci scrive come tutti i giorni buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Fabio e Lorenzo risveglio con tosse e mal di gola sai di che anno è Final Count No 86 appunto quindi uguale quindi sì ecco allora ascoltavo ma è vero non potevo scusa ma avevo questo ricollo di io in macchina accompagnato a scuola i primi giorni di elementari con Final Count che andava su una famosa radio milanese radio Milano International adesso non c'è più radio 101 Milano International non c'entra niente con sì e no credo nel senso che sì è stata un'evoluzione ma in realtà radio Milano International Fausto Terenzi Roba che Alberto che ci sta ascoltando in questo momento sicuramente ha questi ricordi e beh e tra pareti di 86 c'era già Crystal Radio eh sì eh c'era già c'era già c'era già sentimento per questo non solo il nostro perché non vorrei azzardare però sono tipo gli unici sì beh che si battono magari non gli unici ma sono una rete appunto fatte da tante associazioni tra qualche el-nag ad esempio sì esatto perfetto l'hanno stesso perché hanno ieri hanno messo un post su facebook in cui dicono che chiudere il cpr consegnare il corrello di nodoro 2023 il primo dicembre la perquisizione compiuta da la guardia di finanza ha reso manifesto l'orrore che si nasconde tra le sue mura violenze e maltrattamenti mancato rispetto di qualunque diritto essenziale altre cose che abbiamo appunto già detto, il posto si conclude con per questo vi chiamiamo a manifestare il 7 dicembre alle ore 10 e 30 davanti al teatro dal verme nel luogo in cui verranno consegnati gli ambrogini d'oro, noi consegneremo i corellini d'oro i corellini d'oro, va bene quindi manifestazione, protesta davanti al teatro in cui verranno consegnati gli ambrogini d'oro il giorno e nel momento in cui verranno consegnati gli ambrogini d'oro e noi saremo lì, perché Milano News a prescindere dalla protesta della rete no CPR, è già in scaletta il fatto che noi Milano News e Crystal Radio il 7 di dicembre una lunga diretta dalle 7 del mattino fino a luna insieme qui per raccontare la mattinata di Sant'Ambrogio, per festeggiare insieme la giornata di Milano e avremo appunto una troupe che sarà al teatro dal verme a seguire le premiazioni degli ambrogini, avremo anche dei freschi ambrogini poi ai microfoni nostri di Good One in Milano e poi andremo anche alla fiera di Obey Obey a sentire, a raccogliere il sentiment anche oggi ne abbiamo uno di ambrogini è vero, adesso fra poco arriverà Walter Cherubini anche lui è ambrogino d'oro comunque dobbiamo raccogliere il sentiment l'humus il mood comunque staremo lì quindi anzi se volete se passate da quelle parti vedete le nostre ragazze con il microfono di Milano News fermatele e dite voglio essere anch'io intervistato da Good One in Milano e saremo lì a sentire anche voi che cosa ne pensate di questo Sant'Ambrogio 2023 che arriva a pochissimo ma prima la Michelin Francesco e Michelin insieme a Fedez chiamami per nome anch'io diciamo per nome uè Pistola no stai che ti voglio bene lo dico ufficialmente qui in diretta che è vero e ben Pistola è oggettivamente bello dai sì è anche un aggettivo carino è un po' tipo è qualificante sì è un po' così ma sì quasi scherza allora classifica grazie Fabio gentilissimo adesso però basta vedi che c'è un caffè dai veloce ieri me l'ero persa questa cosa ieri accendo prima del prime time mentre mangio sul TG2 Post si può dire si si può dire si chiama così vedo il dottor il direttore Fabio Tamburini il direttore del Sole 24 Ore il sindaco di Udine il sindaco di Foggia cosa sta succedendo ma vuoi vedere che report sulla qualità della vita 2023 ma io ho perso il conto ma io ho perso il conto ecco ma ce ne sono tantissimi sì di chi di Sole 24 Ore sono le 24 Ore cosa dice prima Udine ultima Foggia e mi si chiude il quadro mi si chiude il quadro sottolineiamo che la Lombardia è la regione più virtuosa se proprio dobbiamo trovare un primato come nostro solito esatto perché nella top ten ci sono tre città milanesi Bergamo tre città lombarde Bergamo Bergamo Milano che si conferma all'ottavo posto ok andiamo nel G8 e prima chiaramente nella categoria affari e lavoro mentre sale al secondo posto per cultura e tempo libero sono curioso di sapere la prima poi la cercheremo e poi Monza quindi nelle prime nelle prime 10 c'è Bergamo Milano Monza quindi Bergamo batte Milano perché è prima rispetto a Milano e invece Monza viene dopo vabbè ci sta perché Bergamo è una bella cittadina devo dire sì anche a me piace molto Bergamo De Hura De Hota sempre così sempre così siamo così l'unica cosa che sappiamo di Bergamo è che c'è Bergamo De Hura De Hota che vuol dire di sopra e di sotto la nostra regista arriva da quelle parti posso dire che l'ultima volta che sono andato arriva col caro bestiame prende scende giù dalla bassa viene qua l'ultima volta che sono andato nella parte alta di Bergamo Bergamo punto alta sulle mura ho trovato una scritta di una canzone di Pinguini Tattici Nucleari lunghissima sono di lì loro sono di lì ho capito però io me la ricordo benissimo anche il video tu eri per me quello che per gli anni 90 è stato Friends che è una frase di Tetris una canzone di Pinguini Tattici Nucleari scritta su deturpato deturpato con una canzone che poteva essere anche di un cantante ma invece chiedo a chi è di Bergamo esiste ancora il circolino alto cavolo quante magnate che mi sono fatto lì mamma mia che buono perché c'è il circolino alto e il circolino basso però non so se quello basso c'è ancora ma quello alto è famoso quello alto è famoso perché è un ristorante dove si mangia molto bene si mangia molto bene si 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 un saluto se ci ascoltano così se ci volete invitare noi veniamo facciamo anche la trasmissione da lì facciamo Good Morning Bergamo per un pranzo lo facciamo ci svendiamo per un pranzo io faccio tutto oggi torno in fiera ancora si mi lascio i pantaloni guarda piuttosto per un buon arancino no c'ho la calzamaglia sotto ah ok se c'ho freddo io andiamo avanti con la musica adesso Achille Lauro con Bam Bam Twist insieme a Gov Tribe Freneti Bam Bam Achille Lauro qui su Crystal Radio Good Morning Milano come sempre il nostro il risveglio il vostro risveglio il nostro morning show il morning show della città che non dorme mai il nostro risveglio è la nostra migliore soddisfazione il vostro risveglio è la nostra migliore soddisfazione bello mi piace questo la metto nel claim Good Morning Milano la vostra colazione quotidiana va bene va bene perché no sai chi me l'ha detto questo? no chat GPT ieri gli ho chiesto mi scrivi uno slogan per il nostro morning show mentre noi parliamo con Filippo Poletti di come viene utilizzata l'intelligenza artificiale la Barilla Microsoft eccetera per la leadership qui si fanno grandi scoperte quanto sono saliti i Lego di prezzo eccetera però non è stato capace di dirmelo quello ho fatto una ricerca per capire quanto è salito il prezzo del Lego dagli anni 70 ad oggi non dell'Ella Posto Fuigo del Lego giocattolo dei mattoncini Lego e non è così semplice perché c'è troppi fattori da tenere in considerazione e poi su Google non si trovano i prezzi in lire di certi scatti no non si trovano se vuoi ti do il prezzo di un'altra cosa cosa vai 16 no il prezzo del concerto in Piazza Duomo in occasione di Capodanno che noi ricordiamo non ci sarà ieri Sara ha detto che costerebbe un milione quindi meno spese inutili e più welfare un milione per un concerto live aid cos'è non lo so un milione la miseria sappiamo come sono veste le casse del comune un milione di euro per un concerto infatti infatti meno male ha detto meno spese inutili vorrei capire una cosa se lui dice questo prezzo senza dire chi viene a cantare però vuol dire che è considerato su una media di un artista così più o meno famoso ma soprattutto sono i costi di sicurezza e allestimento che portano a un milione secondo me il casce dei singoli cantanti non è nemmeno conteggiato guarda ha un milione senza quella roba di potrebbe essere potrebbe 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 se è così siamo messi bene Da Soup con Rotonda insieme a Tiziano Ferro E bentornati a Crystal Radio bentornati a Good Money Milano bentornato anche al nostro ospite del martedì Walter Cherubini consulta periferi a Milano Buongiorno a voi vi ritrovate Buongiorno Walter allora ma poco fa parlavamo proprio della classifica del report delle sole 24 ore sulla corte di vita nelle città tre città lombarde nella top 10 Bergamo Milano Monza noi ovviamente ci soffermiamo su Milano cosa ci può rappresentare di nuovo essere al numero 8 comunque di questa classifica stabili se non sbaglio stabili al numero 8 non è male e che poi bisogna andare a vedere anche questi numeri perché ci sono un mucchio di indici ma la prima cosa che vorrei dire è questa ci sono tutta una serie di rilevazioni sulla città di Milano perché meglio Milano fa il rapporto annuale sulla qualità della vita ha fatto recentemente l'università Bucconi un'indagine sui redditi anche della città di Milano e poi anche sulle associazioni che ci sono Poi la fondazione Ambrosianeum fa un rapporto annuale anche lei sulle prospettive della città Poi abbiamo visto è venuto anche nei nostri studi a Focus Periferia il professor Natale dell'università degli studi di Milano e ha fatto anche un'indagine sulla sulla percezione sulla qualità della vita Tutti che fanno rilevazioni quindi tutti che stanno a rilevare qualcosa Ecco dopodiché per esempio abbiamo notato un paio di giorni fa questa presentazione dell'indagine che ha fatto l'università Bucconi dove anche gli elementi di riferimento cittadino le aree cittadine sono utilizzate in maniera diversa cioè non sono dati omogenei per cui abbiamo utilizzato i NIL che sono i nuclei di identità locale non stiamo qui a dire come sono stati fatti come sono stati fatti comunque suddivide la città in 88 spicchi dopodiché invece per cui questo per quanto riguarda il reddito e questo è un commento perché nel momento in cui abbiamo tra virgolette reddito nero stimato in circa 180 miliardi l'anno su base nazionale è chiaro che anche poi quello che emerge non è la realtà perché abbiamo notato che qui a Milano ci sono delle divaricazioni tra quartiere e quartiere c'è chi ha 100 mila euro l'anno di reddito e chi ne ha 15 mila e quindi ci sono delle grosse divaricazioni ma poi bisogna entrare più nel merito ecco questi gli 88 mila invece per esempio per indagare quante sono le associazioni nella città di Milano si sono utilizzati i codici di avviamento postale che quindi sono un numero sono circa una quarantina ecco allora abbiamo questo frastagliamento di dati tra virgolette un po' disomogenei alcune volte significativi e importanti in ogni caso perché un conto è avere i dati un conto è non averli dopodiché se siano i dati si possono anche armonizzare però il fatto che siano raccolti anche un pochettino così disomogeneamente vuol dire che non c'è una visione complessiva della città e quindi anche un utilizzo di questi dati per poter intervenire questo è il primo rilievo che credo sia importante e fa un po' il paio con quell'indagine Ipsos del 2015 dove diceva che Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro una città che non fa sistema ecco questo qui direi la nota rispetto a poi i dati siamo primi siamo ultimi perché Milano è prima in alcune cose sicuramente nell'economia poi nella sicurezza è al centosettesimo posto quindi anche questo ottavo è un po' come la famosa media del pollo andiamo a vedere ecco rispetto a questo direi che c'è un tema delle grandi città che su tutta una serie di indicatori si collocano all'ultimo posto in ultima fascia che è proprio quello del governo delle grandi città da questo punto di vista mi viene bene per certi aspetti un po' anche cogliere questa classifica che vede Udine al primo posto al primo posto in classifica e il sindaco io da un po' di tempo seguo vabbè queste indagini in pratica che consulta periferia Milano le legge perché è interessata perché aiuta a leggere la situazione nella quale noi operiamo con tanti altre realtà cittadine e quindi anche sul tema dell'organizzazione delle città ecco il professor De Toni è esattamente il sindaco di Udine che quest'anno è la città con la miglior qualità della vita secondo questo report secondo questo report comunque diciamo che non è l'ultima no quello sicuramente ma coglie bene perché c'è un tema di governo delle grandi città e quindi abbiamo parlato abbiamo invitato anche qui il professor Maggiore che è presidente della fondazione Dio Guardi che con l'ANCI Associazione Nazionale di Comuni d'Italia sta proliferando nelle varie città italiane la cosiddetta city school per il governo della città complessa quindi non per il governo dei piccoli paesi ma per il governo delle città complesse cioè proprio queste città che sono ultime in questa classifica proprio perché hanno tutta una serie di problemi di controllo del territorio di gestione quindi di gestione del territorio bisogna impalarla ecco il professor De Toni che appunto è uno dei docenti di questa city school che a Milano è associata al Politecnico di Milano che cosa dice il decentramento del potere a livelli più bassi della struttura ovvero l'aumento del potere degli addetti trova sempre grandi resistenze ai vertici delle organizzazioni perché questo decentramento viene vissuto come una perdita di potere allora questo qui è il primo dato cioè c'è chi vive il potere come una perdita sua ma il potere istituzionalmente parlando deve essere utilizzato al servizio della città non per farti bello o per sentirti importante per dire qui comando io questo qui per carità non è per tutti ma è tanto per estremizzare il concetto questo qui è il primo dato e quindi anche dal punto di vista organizzativo uno si sente sminuito ma uno non dovrebbe soprattutto ha una funzione pubblica non dovrebbe sentirsi sminuito dovrebbe dire ci sono tanti altri che hanno potere e possono fare tanto per la nostra città in questo caso o le grandi città in questo caso ecco questo qui è il primo dato il secondo dato che lui pone oltre a questa perdita di potere dice qui entriamo un pochettino un po' tra virgolette difficile la concettualizzazione del potere come entità a somma non zero è il passo critico per giungere a capire l'essenza appunto dell'incremento e la gestione dell'organizzazione a molte menti è duplicazione di potere in altre parole l'aumento del potere in periferia non fa diminuire quello del centro il potere non è una grandezza conservativa come materia energia bensì generativa faccio un paragone se noi diffondiamo cultura diffondiamo divina commedia chi è capace di diffonderla come il nostro amico Amadio Fioramante Facchini di Muggiano che è un grande conoscitore della divina commedia anche un grande divulgatore anche se magari poco conosciuto però è da conoscere sicuramente se in tanti conosciamo la divina commedia non è che il Amadio Fioramante Facchini non la conosce più ecco allora anche il potere è esattamente generativo più lo si dà perché potere è responsabilità più abbiamo una città con persone responsabili con famiglie responsabili con associazioni responsabili e più ci arricchiamo tutti quanti quindi ecco questa cosa del potere che va condiviso insomma sarebbe interessante farlo sentire anche a chi sta nei palazzi in centro che insomma troppo spesso ha paura appunto di cedere il potere per pura di perdere invece quando forse anzi avrebbe ancora più risonanza ma si ispiraterebbe da un mucchio di roglie tra le altre cose insomma perché se non vuoi il masochismo a volte appunto se non vuoi farlo per generosità ma farlo per egoismo per egoismo le roglie le lascio in giro perfetto allora andiamo con un po' di musica adesso poi torniamo ancora qui con Walter Cherubini adesso è il momento di Diplo con Use Me sempre qui Good morning Milano 8 e 42 minuti buon ascolto e questo era Diplo con Use Me Usami bravissimo anche oggi hai passato l'esame ti ho tradotto una canzone siamo qui con Walter Cherubini stiamo parlando appunto di periferie e ci siamo accorti un po' in questi anni anzi Walter si è accorto molto meglio prima di noi come quando vengono fatte varie rilevazioni sul campo vengono sempre utilizzati però parametri diversi soprattutto geograficamente parlando cioè vengono utilizzati a volte i NIL a volte i CAP e a volte voi avete ad esempio quanti toponimi diversi per quartiere avete trovato voi di consulta periferia 239 239 capito che può essere un ottimo utilizzo per adesso poi mi ricordo non l'abbiamo segnato qualche settimana fa abbiamo parlato di un'altra ricerca che ha fatto invece ha creato delle nuove piccole zone partendo dalle 20 zone quindi insomma ah sì Marco Sant'Ambrogio per la valutazione del sistema di welfare a Milano infatti uso un altro sistema ancora questo è un po' un problema però quando poi si va a parlare di capire quanti lembi di territorio esistono a Milano allora quanti lembi e quanti ricercatori perché diceva l'arcivescovo del Pini in una sua notazione invitando le università e le accademie a diciamo così dare un contributo alla vita della città e questo è uno dei temi che affronteremo con la prossima di gennaio febbraio tredicesima convenzione delle periferie riprendendo un tema già affrontato nella precedente convenzione le università abitano la città punto di domanda perché se il lavoro che viene fatto a livello di università che è anche un lavoro molto importante noi abbiamo utilizzato tutta una serie di libri scritti da docenti universitari proprio per imparare sulle periferie in particolare naturalmente per imparare da loro tutta una serie di elementi conoscitivi anche che noi nella nostra attività non facciamo perché non ne siamo capaci non ne abbiamo tempo ma se lo fa qualcun altro ritorniamo al tema del potere l'informazione potere si dice e l'informazione potere ma se tu la distribuisci è utile per tutta quanta la città allora questo qui è il primo dato quindi tutti questi centri di rilevazione se si parlano perché altrimenti è un pochettino una sorta di autobiatificazione dove ah io ho fatto questa cosa va bene d'accordo contento lui contenti tutti chi colleziona francobolli mi ricordo un fatto dove una persona che raccoglieva francobolli ma a un certo punto ne aveva due uguali due erano al mondo e quindi uno l'ha distrutto così aveva l'unico francobollo per cui c'è anche un certo tipo di approccio psicologico da un certo punto di vista per cui invece di estendere il potere qui lo diminuisci perché addirittura lo elimini da un pezzetto perché dici ce l'ho solamente io è l'unico che ho ecco ma al di là di questa cosa allora ci sono appunto delle categorie di rilevazione che sono appunto i nuclei di identità locale che sono quelli che usa normalmente il comune di Milano e sono 88 dopo di che appunto come in questo caso della ricerca dell'università Bocconi sulle realtà associative i codici di avviamento postale utilizzati sono 38 e quindi vediamo che sono in numero significativamente inferiore c'è un altro elemento di rilevazione che è il urban file abbiamo invitato qui a focus periferie e che invece ha catalogato 163 fazzoletti di terra come composta Milano noi siamo entrati un pochettino nel dettaglio con il centro studi periferie di consulta periferie Milano e i toponimi esistenti sono 239 dei quali 166 in periferia perché la periferia è l'80% del suolo cittadino e quindi dove c'è una composizione poi anche questi elementi perché poi sono anche questi qui elementi simili in il per esempio identificano anche parchi quindi è chiaro che un quartiere nuovo un borgo vecchio o un parco sono cose completamente diverse ecco per quello che allora è importante entrare nel dettaglio ma anche mettere a fattore comune tutti questi dati è un lavoro che magari nell'occasione nella convenzione delle periferie quell'aspetto delle università abitano la città perché abbiamo alcuni piccoli esempi significativi ma veramente che si contano sulle dita della mano di interventi dell'università nella città che aiutano la città come il laboratorio la clinica legale dell'università Bocconi al quartiere Ale San Siro l'obiettivo quindi è un dato aggregato più consapevole bisogna fare in modo che appunto questi dati si aggreghino Walter siamo arrivati alla fine oggi proprio super di corsa mi spiace dobbiamo quindi l'ultima parola è condivisione condivisione infatti condivisione dei poteri condivisione dei dati una comunità condivide altrimenti è la disgregazione che vediamo attuale quindi una città sicura o non sicura no fuori controllo fuori controllo perché non ci sa non ci conosciamo tra di noi guardiamo gli elementi per controllarla martedì prossimo Walter torni qua continuiamo con il discorso allora sempre con Walter Crubini consulta periferia di Milano grazie mille Walter ci vediamo martedì prossimo a fra poco perché ci salutiamo noi invece grazie a tutti